Mimmo Sabatelli si parte, sorrisi, entusiasmo, cosa c'è di diverso rispetto alle passate stagioni? Diciamo poco, nel senso che come dicevi tu c'è tanta voglia di ricominciare, ci sono facce nuove, sorridenti che hanno sposato questo progetto, c'è area di una squadra che ha voglia di migliorare quello che ha fatto l'anno scorso, quindi sono molto contento perché vuol dire che abbiamo fatto le scelte giuste e che quindi ci aspetta un'annata che ci può dare tante soddisfazioni. Dove e come si può migliorare rispetto alla passata stagione? Sicuramente noi come diceva un tuo collega proviamo ogni anno ad alzare l'asticella, è normale che come lo facciamo noi lo fanno anche le altre squadre, devo dire che quest'anno il livello si è alzato parecchio, ci sono le prime 3-4 squadre che hanno fatto campagne acquisti illegali fino a oggi, almeno per quello che si era visto, quindi sicuramente sarà tutto più difficile perché anche quelle che l'anno scorso hanno sofferto si sono rinforzate, quindi sicuramente noi proveremo a fare meglio, ringrazio la società perché mi ha permesso di allungare un po' la rosa sia di esperienza che di qualità, abbiamo approfittato a mandare qualche ragazzina giovane a fare un po' di esperienza fuori, di giocare in modo tale che possano tornare in un futuro qui da noi e essere protagonisti, quindi devo dire che abbiamo fatto delle scelte che sicuramente sono quelle giuste. Nel Molise c'è invece poca scelta a livello di cestiste, di un certo livello, di una certa qualità, dove cercate di prendere anche per elevare il settore giovanile? Questo è un altro campo dove noi siamo molto contenti e ringrazio la società perché intanto stiamo facendo un gran bel lavoro anche sulle ragazzine del territorio, è normale che i numeri nostri sono numeri piccoli e quindi è anche un po' più difficile, però dal settore mini basket stiamo lavorando anche tanto sul settore giovanile e sul mini basket femminile del territorio, però devo dire che quest'anno la società ha deciso di fare ulteriormente dei sacrifici prendendo le migliori giovani che ci stavano in giro per l'Italia, di nazionale italiana e quindi che possono essere giacchetti, bocchetti. Abbiamo preso un'altra ragazza che a breve presenteremo, sempre nel 2007, quindi voglio dire stiamo facendo un buon lavoro proprio perché sappiamo che è la base per poter essere un progetto duraturo e quello di far crescere qui da noi delle giovani che poi possano giocare in Serie A. Migliorato e ampliato anche lo staff tecnico? Sì, sì, anche qui oltre a Vincenzo Di Meglio che per me oramai è una figura fondamentale, quindi veramente mi conosce in tutte le mie staccettature, quindi per me è veramente una figura alla quale devo tanto e abbiamo ulteriormente allargato la rosa degli allenatori prendendo un giovane allenatore Francesco Iorio e poi Francesco Dragonetto che comunque ha militato in tanti anni in Serie A come assistente proprio perché non vogliamo lasciare nulla al caso e vogliamo lavorare al meglio non solo sulla prima squadra ma sul settore giovanile.